proseguendo nella lettura del Vangelo secondo Matteo arriviamo alla parte del Vangelo dedicata al discorso sulla missione e questa parte del Vangelo inizia con un brano intitolato Gesù a compassione della folla Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoge annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore allora disse ai depoli la messe è abbondante ma sono pochi di operai regate dunque il signore della messe perché mandi operai nella sua messe grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima